grande è un barman preferito è un barman preferito è un pezzo che ha un punto di vista di un lavoro del notturno e rimane sempre stupito quando la notte diventava quando fuori il giorno la luce è un po' grigia lui si trova tra la chieda della giornata e il tizio finisca il giorno qui del mezzo è un po' un po' stare a curare era stornato ma felice di venire grazie 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 a tutti Grazie a tutti